Edoardo tu sei un po' l'uomo del giorno, questa convocazione straordinaria per te l'occasione della vita? Sì, ho cercato di sfruttare al meglio questa occasione per la convocazione al mondiale, ci sono riuscito, sono molto contento io e tutta la mia squadra, anche per l'altro mio compagno, Sonico Albrelli. Tremorsiamo un bel periodo di forma e speriamo di continuare così. Edoardo, il CT Cassani ha espresso parole straordinarie su di te, questa è anche una grande responsabilità. Sì, ho letto sui vari giornali, non mi aspettavo così tanti elogi, di certo alla Trevalli ho fatto una bella gara, ho dimostrato di sapermi mettere a disposizione e di andare forte e sono contento per la sua scelta.